Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale. Oggi sfogliamo insieme la mia boutique di agosso-settembre 2021 che è in edicola. In edicola quindi vai a comprarlo perché veramente è ricco di tanti bellissimi modelli. Andiamo a sfogliarlo insieme. Moda leggerissima, abbiamo il crop top che è il numero 01, taglia dalla 40 alla 46, incadì leggermente elasticizzato color sabbia, ovviamente noi lo possiamo fare del colore che più preferiamo, interamente doppiato con effetto lucido opaco dato dal tessuto utilizzato a dritto e a rovescio. Quindi lo vediamo qui, qui insomma veramente molto 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 carino. Abbinato alla gonna pantalone che era numero 02, taglia 40 alla 40 alla 46, dalla linea dritta con le pence in vita davanti e dietro, tasca inserita nella cucitura del fianco e banda laterale realizzata nel rovescio del tessuto e crea diciamo un effetto opaco, anche questo a contrasto. E poi ha la cintura rimessa, veramente molto carini questi pantaloni e freschi per l'estate. Bellissimo questo abito che ricorda tantissimo il mio e non sto scherzando ma veramente io stavo cercando un modello del genere, questo io lo faccio sicuramente perché mi piace sia come vestito, fatto come vestito e sia come maglia, cioè se noi lo facciamo un pochettino più corto, io da piccolo avevo una maglia fatta proprio esattamente così, che ho messo tantissimo perché a me stanno molto bene avendo le spalle larghe, le maglie con le spalle scoperte. Ed è veramente bellissimo e questa è con la tecnica che ti ho fatto vedere nel mio canale YouTube della ricciatura con la macchina per cucire. Ed è il numero 0, 3, l'abito va dalla taglia 38 alla 44, è stato realizzato in pizzo sangallo, foderato nella sola parte della gonna in maglina. Chiaramente noi possiamo anche farlo di un altro tessuto, non foderandolo ovviamente. Ed è per esperte perché la parte davanti diciamo che incrocia e incrociata, ma volendo possiamo farlo tutto dritto. Io lo farò così, io lo modifico il modello perché mi piace molto come è fatto nella parte superiore, nella parte inferiore lo possiamo comunque modificare. Qua abbiamo l'abito numero 04, che è un abito con scalfo all'americana e taglio in vita realizzato in cotone, leggermente elasticizzato a fantasia. La bottonatura centrale davanti a uomo, chiusa esternamente da bottoni, a perlina e automatici nascosti all'interno. Il collo è classico con solino e la parte alta della schiena è nuda, quindi come la vediamo qui. E' abbinato il pantaloncino che sono il numero 05, taglia 40-46, interamente realizzato in pizzo sangallo. Anche questo è veramente molto carino, è fresco per l'estate. Mentre qui abbiamo un abito che è il numero 06, le taglie varie dalla 42 alla 48 dalla linea a camicione. Realizzato in pizzo sangallo anche questo, con cimosa smerlata. E' veramente molto bello il tessuto che è stato utilizzato, questo è molto carino anche per andare al mare come copricostume. Qui abbiamo la moda versatile, abbiamo una blusa, i bermuda che sono il numero 08, la blusa va dalla taglia 40 alla 46 e la numero 07 che è stata realizzata in voa di viscosa fantasia. E' a queste maniche molto lunghe e importanti, infatti secondo me è più adatto a settembre più che in questo periodo, abbinato appunto ai bermuda che sono il numero 08 e vanno dalla taglia 40 alla 46 e sono realizzate in tela di lino. Abito numero 09, anche questo abito è molto bello ed è realizzato in voa di viscosa, dalla linea leggermente svasata con questa balza arricciata al fondo. Manica giro con motivo di balza arricciata al fondo e scollo arrotondato con apertura a goccia nella parte del dietro. E' veramente molto romantico e molto carino, bellissimo anche questo. Questo è un abito senza tempo secondo me, perché mi ricordo che per una festa di un 18enne mi ero messa, avevo indossato tanti anni fa, un abito proprio identico. Quindi è un abito che non passerà mai di moda, è sempre molto molto carino. Ed è il numero 10, l'abito va dalla 38 alla 44 ed è stato realizzato in una leggera tela di cotone glicine. Corpino a bustier interamente doppiato con stecche semirigide, mentre la parte centrale del corpino di dietro forma motivo di impunture con elastici inseriti e apertura lampo al centro che prosegue anche nella gonna. E poi ha questa gonna molto ampia e femminile. Per esperte è l'abito numero 11, taglia dalla 42 alla 48, anche questo con le maniche lunghe, anche questo io ti consiglio, lo consiglio per, diciamo, quando farà meno caldo, ovviamente, perché con queste temperature, con queste maniche lunghe, non è l'ideale. Ed è il numero 11, l'abito va dalla 42 alla 48 ed è realizzato appunto con questa arricciatura, all'incollatura del davanti e dietro e al fondo delle maniche, che la rendono veramente molto carina. Invece in questa parte della rivista abbiamo la moda pre-pretti, quindi una moda adatta, diciamo, alle adolescenti, giovanissime, che abbiamo questa tuta, che è la numero 12, taglia 42 e 48 ed è una tuta per esperte. Il corpino è tagliato in barree, mentre le restanti parti sono realizzate in dritto filo. Spalline in forma sagomate, scollatura davanti e dietro guarnita da un bordo in forma, che termina con delle punte a cravatta da nodare al centro del davanti con fiocco ed elastico inserito nel taglio della vita. E questo, invece, è un altro abito, che è il numero 13, molto carino, realizzato con questi volà nelle spalle, a livello delle spalle. Ovviamente, se non ti piace questo buco del davanti, diciamo, lo puoi fare anche tutto dello stesso tessuto, senza questa parte aperta, e la taglia vanno dalle 38 alla 44, numero 13, abito a tubino, che sarà sempre evergreen, perché comunque anche gli abiti a tubino sono degli abiti che comunque non passeranno mai di moda. Qui abbiamo l'abito scamiciato, che è il numero 14, le taglie vanno dalla 40 alla 46, che è stato realizzato in gabbard, elasticizzato con profondo scollo arrotondato davanti e diretto a bretella chiusa con asole e bottone sul davanti. Profondo scalfo arrotondato davanti e dietro, guarnito da profilo rimesso, così come per lo scollo. Ed è una cucitura facile. Facile anche questa tuta, che è la numero 15, taglia dalla 40 alla 46 in maglina e l'assicizzata color petrolio. E senza apertura, con profondo scollo a V nel davanti e davanti ai profondi scaldi laterali. Quindi anche questa è una cucitura facile. Bellissima è la blusa, veramente troppo carina, anche questa mi piacerebbe tantissimo farla. Io la voglio fare, ed è il numero 16, la blusa taglia dalla 40 alla 46 da sapore vintage. Realizzata in leggera tela di cotone a fantasia in microfiori. Vabbè, utilizziamo la stoffa che più ci piace, pensa al seno nel davanti, quindi che dà un volume e una forma femminile al corpo. E scollo arrotondato e guarnito da un ampio collo baby, arricchito con questi volant che sono veramente troppo belino. Questa la facciamo sicuramente. Guida all'arte del cucito è la numero 29, tutta da conservare. E poi abbiamo moda evergreen, che è questa blusa, che è la numero 17, le taglie vanno dalla 42 alla 48, che è stata realizzata in crepe de chine a pois su fondo rosa. E ha lo scollo a V nel davanti, sprone nel dietro, chiuso con bottoni, a pressione e nascoste. È molto particolare la parte del dietro, anche le maniche, ovviamente le possiamo mettere o non mettere, possiamo decidere anche noi la modifica del carta modello. Bisogna abituarsi, secondo me, a imparare a modificare il carta modello, a seconda delle nostre esigenze. Quindi partiamo dal carta modello, lo modifichiamo a seconda dei nostri gusti, della nostra conformazione fisica, ma soprattutto dei nostri gusti. Questa è la bellezza di saper cucire. Questo è per esperte, anche questo è uno chemisier che è il numero 18, va dalla 42 alla 48 e ovviamente è una cucitura difficile. Deve avere una certa, diciamo, esperienza di cucito. Qua abbiamo la numero 19, che è una blusa tagliata dalla 38 alla 44, realizza in voile di misto viscosa e sete azzurro per il davanti e dietro. E le maniche sono lunghe, chiaramente rimane svasata con il collo tondo. Ed è sicuramente non è una cucitura facile, sarà un tre stelline di difficoltà. E la blusa numero 20 è dalla taglia 40 alla 46, realizzata in saten di viscosa. Manica lunga a giro, con elastico inserito al fondo e motivo di sprone su davanti, scollo AV rifinito da un profilo sbieco. Anche questi, diciamo, che sono adatti a, se più che altro, per settembre. La canotta va dalla taglia 42 a 48, veramente molto bellina, questa mi piace molto com'è fatta. Rimane svasata, dà la linea quindi molto ampia, realizzata in voile, in trespato verde acqua. Bello anche il colore, scollo AV davanti e dietro, motivo di pieghe trattenute alle spalle. E poi c'è la particolarità di questa fuschacca raddoppiata al centro per metà della sua lunghezza, sia no da piacere. E poi abbiamo una blusa, che è la numero 22, va dalla taglia 38 alla 44, realizzata in saten bianco, con sprone davanti e dietro, e scollo arrotondato con apertura a goccia centrale, nel davanti chiusa da asola e bottone. Veramente molto bellina, perché questo è il carico passepartout che possiamo mettere anche a fine settembre-ottobre, vabbè, a seconda di dove abiti, chiaramente no, però dove abito io è ancora caldo, quindi lo puoi abbinare anche ad una giacchetta, magari, ecco, ce l'avete una giacchetta, sotto una giacchetta Chanel, di stile Chanel. Il 23, la maglia, che vediamo qui, questo è il figurino, che va dalla 42 alla 48, realizzata in maglia compatta elasticizzata, color Tiffany, che bello, il colore splendido, collo ad anello rimesso e ripiegato su se stesso, che termina con un motivo di punte al centro-dietro, sprone tagliato nel dietro e motivo rimesso al fondo davanti. E manica giro liscia al fondo, anche questo, chiaramente, è adatto per sé termine ed è una cucitura facile. Abbinata alla gonna pantalone, che è la numero 24, questa qui, che è una gonna per esperta, anche questa. Le taglie vanno dalla 42 alla 48, interamente realizzata in ecopelle, coro cacao, con cintura in forma rimessa sul davanti e dietro e sfondo piega, centrale davanti, cucito con un breve tratto e tasche oblique, con fianchino nel davanti e pensa nel dietro. Ed è per esperte, purtroppo. Poi abbiamo un abito, molto bello questo abito, mi piace tantissimo, è difficile realizzazione, chiaramente, quindi, insomma, è per esperte, è il numero 25, taglia dalle 38 alla 44, con corpino davanti e dietro e coloro rimesso arrotondato, con apertura a cannoncino centrale, nel corpino davanti, chiusa da asole e bottoni, gonna davanti e dietro leggermente arricciata, balza arricciata al fondo e manica lunga aggira arricciata al colmo e al fondo con polso rimesso ad anello. Veramente molto elegante. Facile, invece, questo abito che abbiamo qui, che è il numero 26, le taglie vanno dalla 42 alla 48, in maglia compatta, senza apertura, si indossa dalla nuca, quindi facile da realizzare, sprone davanti e dietro, scollo scostato ai lati con collo dritto rimesso, e pensa al seno e tasche inclinate applicate sul davanti. Veramente molto carino, è bellissimo questo abito, questo è un abito che mi piacerebbe rifare, anche questo è il numero 27, le taglie vanno dalla 40 alla 46, con corpino tagliato in vito, con elastico inserito e la gonna svasata ai fianchi con balza arricciata al fondo e manica lunga a giro con elastico inserito al fondo. E due passanti applicati ai fianchi servono per inserire la cintura realizzata in ecopelle, è veramente molto molto carina, mi piace, è davvero tantissimo. Mentre la giacca, che è il numero 28, la giacca a taglia da 40 a 46, classica doppio petto, due bottoni, collo classico con reverie, tasca e occhiele, chiaramente è una cucitura per esperte. Allora, moda taglie più. A moda taglie più abbiamo questa bellissima gonna, che è la numero 29, che vediamo qua, che è una classica gonna, che è stata realizzata in leggero rasatello di cotone, pieghe sciolte davanti e dietro, sfondo piega laterale ai fianchi, che è la numero 29, e va dalla 46 alla 52, ed è una cucitura facile. Abbinata a questa t-shirt, che mi piace tantissimo, è veramente molto molto bella, ed è la numero 30, le taglie vanno dalla 46 alla 52, è semplice, realizzata in jersey, leggermente elasticizzato, scollo arrotondato, con bordo di rifinitura rimesso piccola manichina arricciata al colmo, con guarnizione di ruche in chiffon arricciata, ed è questa la particolarità, veramente di una sciccheria unica. Bellissima anche questa blusa, che è la numero 31, una blusa facile, quindi adatta anche ai principianti, che va dalla taglia 46 alla 52, realizzata in cotone, leggermente elasticizzato, con ampio scollo arrotondato, rifinito da un profilo ad anello. La particolarità è data dal dietro, più lungo e arrotondato al fondo, che termina a fianchino sul davanti, con una balza arricciata rimessa al fondo davanti e dietro, e la manica corta a giro, con ascella libera e arriccio al colmo, veramente stupenda. Abbinato al pantalone, che va dalla taglia 46 alla 52, ed è la numero 32, ed è una cucitura facile, è dalla linea aderente, in stile capri, realizzata in tela elasticizzata a righe verticali, con piccoli spacchi laterali al fondo, fianchino rimesso nel davanti, e paschina impunturata nel dietro, cintura rimessa in vita, con elastico inserito. Mentre in questa pagina, vediamo questo bellissimo abito, che è il numero 33, taglia dalla 46 alla 52, realizzato in cotone elasticizzato giallo intenso, quindi molto vitaminico estivo, dalla linea svasata ai fianchi, con scollo arrotondato, guarnito da un volano arricciato e dall'acci, da anodare al centro davanti, con piccola apertura a V sottostante, balza arricciata al fondo, davanti e dietro, e manica corta a giro, senza apertura, si indossa dalla nuca. Altro abito, il numero 34, molto bello anche questo, l'ha tagliata a 46 alla 52, realizzato anche questo in cotone, motivo di piega e cucite fino a sopra la vita, tasche inserite nelle cuciture dei fianchi, e alto bordo sovrapposto al fondo davanti e dietro. Lo scollo è arrotondato, rifinito da un punto con cordoncino, e sprone interno di rifinitura, che sporge leggermente dalla scollatura sottostante. Mentre questo abito, è tipico un abito che mi ricorda tantissimo gli anni 60, ed è il numero 35, la taglia dalla 46 alla 52, realizzato in cotone, leggermente elasticizzato, corpino con incrocio sul davanti, e la gonna molto ampia, svasata, con pieghe sciolte, veramente molto carino. Qua abbiamo una moda accessori, abbiamo i dischetti struccati lavabili, questi tra l'altro te li ho fatti in un video due anni fa, quindi hai il tutorial per poterli fare, e il guanto per il viso e per il corpo, e questo io lo voglio fare perché avevo già intenzione di farlo, questo guanto, e stavo cercando un cartamodello, anche se abbastanza semplice, quindi lo possiamo fare insieme, fammi sapere cosa ne pensi. E tra l'altro qua leggo le creazioni di Cree, e mi sa che questa ragazza la conosco, complimenti, complimenti, sono troppo contenta Cree, un bacio alle creazioni di Cree, e la conosco molto molto bene, sono veramente contenta, questa ragazza fa cose splendide, vai a vederla nel suo Instagram, era anche nel mio gruppo di Facebook, Cucitoterapia, poi è uscita perché su Cucitoterapia, veramente siamo in tantissime, perché sono 62 mila persone, e molte volte quando metti le tue creazioni, vieni magari criticato, eccetera, eccetera, per cui era uscita, e anche lei infatti aveva fatto i g-dischetti struccanti, questo lo faccio, che era Cree, poi ha fatto la fascia per capelli per pulizia viso, fantastica, brava, brava Cree, brava, complimenti, il 39, la pochette, molto carina, e la shopper, e tra l'altro queste cose le vende, le vende, quindi vai nel suo Instagram, veramente sono molto molto contenta per lei, veramente tanto, complimenti, abbiamo terminato di sfogliare insieme la mia boutique, di agosto a settembre 2021, spero che ti sia piaciuto come è piaciuto a me, mi è piaciuto veramente tantissimo, devo dire che la mia boutique non mi lascia mai insoddisfatta, su questo non ci piove, ci sono veramente tanti abiti, questo me lo voglio fare assolutamente, nonostante lo studio, per chi sa che io mi sono rimessa a studiare per il concorso, per la scuola, ma io me lo faccio, e lo facciamo insieme, è veramente bellissimo, comunque lo trovi in edicola, è agosto e settembre insieme, del 2021 ovviamente, e noi ci vediamo al prossimo video, e mi raccomando, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, per rimanere sempre aggiornato, sui nuovi video che verranno caricati nel mio canale, e condividi i miei video nei tuoi social, in modo tale da permettere al mio canale di crescere, un buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, un bacio grande, ciao!